Usava un terreno agricolo come discarica abusiva di veicoli e rottami. I finanzieri della Compagnia della Guardia di Finanza di San Giovanni Valdarno, insieme a personale ARPAT e con la collaborazione del reparto operativo aereo navale, intervenuto con elicotteri in dotazione alla sezione di Pisa, hanno sequestrato una intera area nel territorio sangiovannese e denunciato il proprietario. Il blitz è nato in seguito ad informazioni raccolte sul territorio dalle fiamme gialle valdarnesi sulla presenza di alcuni siti adibiti in modo illegale a centri abusiva di raccolta e stoccaggio di rifiuti. Ai primi sopralluoghi svolti a settembre ha fatto seguito il supporto dell'elicottero della sezione di Pisa che ha operato un sorvolo avvenuto sull'area sangiovannese permettendo di ottenere riscontri visivi immediati della presenza di una ampia area nel territorio sangiovannese utilizzata appunto come deposito per autoveicoli abbandonati. Giunti sul posto i militi hanno constatato la presenza di oltre 30 autovetture, decine di batterie, pneumatici, motori ed altri rifiuti speciali in totale stato di abbandono e senza alcuna cautela per lo sversamento di liquidi con il conseguente rischio di inquinamento del sottosuolo. Alla termine delle verifiche i finanziari sangiovannese hanno sequestrato la zona di oltre mille metri quadri denunciando alla procura della Repubblica di Arezzo il titolare del terreno per il reato di inquinamento ambientale. L'operazione rientra nel più vasto ambito della azione di vigilanza e di prevenzione degli illeciti svolta in sinergia con la componente aereo navale di Pisa attraverso l'impiego di un velivolo altamente specializzato dotato di una sofisticata strumentazione. Grazie per la visione! Grazie per la visione!